Il Comune e il Tribunale di Pescara hanno firmato quest'oggi un protocollo di intesa per l'attivazione di uno sportello e quindi di un servizio di mediazione familiare, completamente gratuito. Si tratta di un'azione sinergica sul territorio pescarese in collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali che ha come intento quello di sostenere, supportare e prevenire le separazioni coniugali, al fine di raggiungere un accordo soddisfacente e duraturo per tutta la famiglia. Fondamentale sarà il supporto di un mediatore familiare, un esperto nella gestione dei conflitti della famiglia. Soddisfatto è il Presidente del Tribunale di Pescara Giuseppe Cassano. È un momento molto difficile per le coppie, la separazione, tanti anni si frantumano e quindi in quel momento sorgono situazioni di conflittualità, conflittualità che si ripercuote sui figli e la mediazione aiuta a risolvere queste problematiche, che soprattutto consente di conoscere al giudice, nell'eventualità che la questione rimanga giudiziale, di conoscere al giudice, di far conoscere al giudice quella che è l'effettiva esigenza dei minori. Lo sportello è ubicato presso il Comune di Pescara al primo piano stanza 12 e il servizio è aperto il lunedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 18. Grazie. Grazie.